Ciao, oggi realizziamo queste simpatiche ciabattine gioiello partendo da delle banalissime ciabatte da spiaggia. Queste sono quelle ciabatte che troviamo sulle bancarelle anche del mercato per pochissimi euro, queste costano 3 euro. Per la realizzazione di questo progetto ci servono delle ciabattine da spiaggia e delle vecchie collane che abbiamo sicuramente tutti noi a casa, dei rimasugli, bottoni, nastro di raso, ago e filo, forbici, colla a caldo. Allora innanzitutto dobbiamo preparare la base sulla quale poi attaccheremo tutte le nostre perline e facciamo così. Ah è importante e su questa gomma ho visto che la colla a caldo non attacca quindi dobbiamo per forza sempre attaccarci sul raso. Allora così, un pochino di colla a caldo. E partiamo. Punta di colla per fissarlo. Ecco, è importante stare attenti di mantenere la ciabattina bella, bella larga, altrimenti poi non ci sta il piede e diventano scomode. Anche qui oggi ho fatto un po' di esperimenti. Ecco qui. Ed ecco fatto. Ora non andiamo troppo per il sottile, con le sfilacciature, poi voi che siete bravissime, farete bene. Ok. Ora andiamo a cominciare. E quindi ci armiamo di ago e filo. Io me lo sono già infilato. E andiamo a cominciare ad attaccare. e nascondiamo il nodino sotto a cominciare ad attaccare le nostre perline. Possono anche essere tutti i bottoni, possono essere dei fiori artificiali. Di nuovo, quello che io vi do è un esempio, poi sarà la vostra fantasia a suggerirvi in modo più... Ecco qua. E semplicemente, come vedete, le andiamo ad attaccare, a cucire sopra. Io qui, come avete visto, ho anche attaccato delle roselline, in realtà un po' tante. E vediamo insieme come si fanno le roselline, anche se le abbiamo già viste in un precedente tutorial. Qui andando indietro, questa rosellina la trovate spiegata con calma benissimo. Giro e piego, giro e piego, giro e piego, giro e piego. Eccola qua. Qui poi, sotto, con l'ago, basta cucirla e bloccarla qui. Allora, vediamo se... Ecco, in questo modo. Eccola. Ecco, in questo modo, quindi attacchiamo le nostre perline. Possiamo attaccare anche dei bottoni. A me piacciono tantissimo. Eccola qua. Qui il bottone è un pochino più scomodo perché... Ecco, in questo modo. Ecco. 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 Ecco fatto. Ecco fatto e via via. Io non vi voglio annoiare con... Come si attaccano i bottoni che siete tutte bravissime. Ecco. 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 Le roselline semplicemente le possiamo incollare sopra così. Quindi abbiamo la rosellina, una punta di polla, ho visto che il raso tiene molto bene e semplicemente le attacchiamo così. Ecco qua, qui io ora non vi annoio a farvi vedere che attacco cosa per cosa, eccole qua. E qui abbiamo abbiamo attaccato anche delle perle di vetro, bottoni, insomma tutto quello che la fantasia vi suggerisce. Io oggi mi sono divertita e le ho realizzate anche nere. Eccole qua. Bene, io spero di essere stata chiara anche questa volta. Qui ci sono le mie ciabattine. Eccole. Grazie e ci vediamo sempre qui su questo canale YouTube. Buon peragosto. Ciao!